Un gol pazzesco! Stasera abbiamo ospiti nel nostro studio che per l'occasione è la sala stampa della Palaresia, Jürgen Prantler, allenatore del Merano, Alessandro Fusina, allenatore del Bolzano, manco a farlo apposta, alla destra e alla sinistra di una nazionale che proprio qui a Bolzano anni fa conquistò un risultato molto apprezzabile, ma sulla onda lunga di una gara di un straordinario risultato ottenuto ai mondiali in Giappone. Benvenuti ad entrambi, insomma non è un caso che abbiate scelto questa collocazione, tu a sinistra e lui a destra. Buonasera, grazie Marcello dell'invito, siamo stati abituati già da tantissimi anni a essere in queste posizioni. Sì, infatti noi ci conosciamo già da... Naturalmente avete trovato questa collocazione, non abbiamo scelto nulla e non abbiamo imposto nulla. No, infatti ci conosciamo già da una vita, quindi è una cosa spontanea e giusta così. E allora, partiamo subito con l'analisi della giornata di campionato appena trascorsa, poi avremo modo di ragionare sulle gare che attendono la nazionale e sull'evento che qui monopolizzerà l'attenzione del mondo della palla a mano italiana a gennaio con appunto le qualificazioni mondiali e l'Alpe Adria, avremo poi nella seconda parte della nostra trasmissione ospite anche Gigi Dalui del Bressanone. Intanto il massimo campionato e intanto il Girone A. Allora vediamo subito il servizio, la scheda preparata da Matteo Aldamonte e poi ne discutiamo con due dei protagonisti del Girone A, vale a dire il Bolzano ed il Merano. Il punto più pesante della tredicesima giornata del Girone A è quello che Bressanone strappa al Bolzano nel derby d'Alto Adige ed è anche il primo punto lasciato per strada dalla formazione campione d'Italia in questa stagione. Dopo 12 vittorie consecutive gli uomini di Fusina rischiano di capitolare in casa sul 26-26 Euros Lazarevic autore di una partita da scienziato del tiro per lui 11 reti a fallire la palla del possibile successo brissinese allo scadere. Il punto conquistato è comunque fondamentale nella corsa al secondo posto per la squadra del tecnico austriaco Rene Kramer anche alla luce dello stop interno di Trieste battuta alla pala chiarvola da una Cassano Magnago che risorge letteralmente dopo sei sconfitte consecutive finale 26-24 dietro al Bolzano che resta comunque saldamente in testa c'è in primis il Pressano i trentini non sbagliano in casa di Molteno dove vincono 29-23 con una buona prestazione collettiva bene anche Merano 31-28 prezioso ai danni del malo e utilissimo ad agganciare Trieste a 12 punti intanto ecco la piano che passa di misura 23-22 in casa del Mezzocorona rimasto invece in coda alla graduatoria anche dopo il tredicesimo sabato della 1 maschile. È un punto vinto 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 penso che ce l'abbiamo meritato soprattutto il secondo tempo e anche come hai detto prima è veramente il derby degli ultimi anni è il Bressanone contro il Bolzano è dura come ogni anno si lotta come ogni anno e questa volta dopo sei anni ce l'abbiamo quasi fatta direi. Sorprendente possiamo dire Alessandro il pareggio imposto dal Bressanone al Bolzano è il primo mezzo passo falso della squadra campionata. Ma oddio io non la considererei un mezzo passo falso e neanche sorprendente Bressanone è un'ottima squadra attrezzata quest'anno per traguardi importanti e noi dopo 12 vittorie consecutive abbiamo commesso un passo falso ma è stato un bellissimo derby combattuto per tre quarti di partita credo che avevamo imposto il nostro gioco abbiamo avuto un ritorno importante da parte del Brixen soprattutto con due ottimi giocatori come Lazarevic e Basic ma credo anche l'ottima prestazione finale nel secondo tempo da parte di Wierer il portiere del Brixen capita ma un punto non è una sconfitta per cui sono molto soddisfatto di tutta questa prima parte di stagione credo che sia soddisfatto del risultato ottenuto nell'ultimo turno anche Jürgen Prant che con il suo giovane merano punta con decisione alla seconda piazza c'è grande equilibrio poi ne discuteremo Sì, anche noi a Malo abbiamo disputato una buona gara siamo partiti un po' in salita invece dopo ci siamo ripresi già dopo il primo tempo eravamo vantaggio di uno dopo nella ripresa siamo riusciti a esprimere il nostro gioco sia in difesa anche in attacco e alla fine penso che abbiamo vinto una gara che ci è meritata Gli avoli neri che puntano alla seconda piazza è a tuo avviso Jürgen ancora possibile guardando un po' la classifica, gli incroci e soprattutto gli scontri diretti? Ma infatti i scontri diretti saranno poi decisivi noi adesso dobbiamo giocare ancora a Bressanone sabato dopo ci aspetta anche una trasferta ancora a Pressano La decisiva quella di Bressanone secondo te? Ma se vogliamo rimanere in lotta sicuramente a Bressanone bisogna vincere se non si fa punti a Bressanone allora noi ci dobbiamo dobbiamo vedere un po' di arrivare fra le prime quattro però il secondo posto lì sicuramente non è più possibile però adesso si vede, noi ci prepareremo lì poi vediamo cosa si riesce a fare Il girone è davvero molto equilibrato Alessandro tu con il tuo Bolzano hai preso un po' di distacco di distanza rispetto alle inseguitrici però c'è grandissima lotta per la seconda piazza soprattutto No, è tantissimi anni che il nostro girone è comunque sempre equilibrato devo dire, riallacciandomi alla domanda di prima non è neanche semplice mantenere sempre una concentrazione così alta da parte dei miei giocatori, della mia squadra dopo che hai preso un margine di vantaggio così ampio Hai una favorita? Per quanto riguarda... Ma io una favorita in questo momento non ce l'ho nel senso che secondo me Bressanone, Brixen e lo stesso Merano vedo un po' in calo Trieste e credo che sarà importantissima e decisiva come diceva Jürgen la partita di sabato il derby Brixen-Merano e credo che a livello di calendario il Bressanone se non sbaglio ha gli scontri diretti in casa e il fatto di aver ottenuto un punto da noi secondo me può averli gasati ulteriormente però credo che sia Merano sia Bressanone hanno le possibilità di ribaltare il risultato quindi il pronostico è apertissimo Bressanone che tra le altre cose parteciperà con il Bolzano l'Alpeatea che si disputerà nella seconda settimana di gennaio a Bressanone lasciamo il girone A occupiamoci ora del girone B il girone B che vede il Bologna ormai in fuga ma alle spalle della squadra di Beppe Tedesco c'è davvero tantissimo equilibrio vediamo Bologna si è alzata sui pedali e ha iniziato la sua fuga solitaria la tredicesima giornata segna l'accelerazione dei ragazzi di Mr. Beppe Tedesco un'accelerazione netta forse decisiva considerando le sole 5 giornate rimanenti al termine della regular season e con l'unico vero scontro diretto dei Felsinei quello contro il Colonia in calendario per l'ultimo turno della prima fase quando i giochi potrebbero e dovrebbero essere fatti il sabato dei Bolognesi è dolce perché il derby contro Romagna non ha una storia vera e propria come qualsiasi 32-18 che di storia ne ha poca e la cui essenza è la superiorità netta di Savini e compagni per una prima della classe Bologna c'è un'eterna rimandata etteramo che gli esami di maturità non li digerisce proprio non basta neanche il nuovo brasiliano De Oliveira alla squadra di Marcello Fonti che scivola malamente in casa di un Carpi in decisa ripresa gli uomini di Ilic provano a risalire una classifica ancora deficitaria ma dove è diventato solo uno il punto di ritardo nei confronti di Tavarnelle superata in casa dell'Oriago 29-19 Veneti tornati al secondo posto anche in virtù del turno di riposo di Cologna nella lotta per le posizioni che contano c'è anche Cingoli che passeggia sul complicato campo del Modena 34-22 il finale della contesa Bologna Bologna che insomma fa corsa a sé ed è insomma ormai lanciatissima verso la conquista della prima posizione praticamente già archiviata alle spalle la sorpresa a Oriago però stanno rinvenendo le altre occhio al Cologne occhio al Cingoli Teramo insomma Jurgen anche lì c'è grande equilibrio per quanto riguarda soprattutto la conquista della seconda piazza Sì infatti l'Oriago adesso ha perso no il Cologna era fermo questo fine settimana quindi è stato di nuovo sorpassato dal L'Oriago ma penso che queste due squadre alla fine sono quelli che c'è la lotta per il secondo posto fra queste due squadre qua il Cingoli sicuramente è anche una squadra da rispettare però credo che l'Oriago e il Cologna saranno quelle due squadre che fanno la lotta per il secondo posto Girone B che insomma nelle considerazioni generali viene considerato un po' come l'anello debole della catena dei tre campionati Alessandro è una considerazione giusta oppure si ha scarsa conoscenza proprio dei valori tecnici di questo girone considerando anche che due corazzate degli anni passati penso al Carti penso a Romagna hanno notevolmente diciamo così ridimensionato le loro ambizioni e anche i loro rostri Sì sicuramente se escludiamo queste due formazioni il Carpi e Romagna che quest'anno per problemi loro hanno ridimensionato le rose possiamo fare questa considerazione e ritenere forse il girone B più debole però sono considerazioni che secondo me lasciano il tempo che trovano visto che siamo orientati per un girone unico dal prossimo anno e credo che per com'è la formula di quest'anno la formula successiva lì si vedranno chi meriterà e chi avrà le capacità per giocare nel girone unico cosa determinerà nel movimento la nascita o il ritorno se è più corretto dire del girone unico io personalmente sono nato e cresciuto con il girone unico non sono forse la persona più competente per dire quale sia la formula giusta ci sono tanti esperti nel formulare così questi gironi questi calendari credo che comunque il girone unico sia l'espressione massima per valorizzare uno sport come il nostro Gironi C che vivrà sabato sabato prossimo il derbissimo tra Conversano e Fasano in Palio la prima piazza la leadership regionale e tanto altro ancora vediamo intanto il servizio Conversano Fasano binomio che andrebbe ripetuto 13 volte perché dopo 13 giornate il derby di Puglia per eccellenza infiamma la lotta per il primo posto nel girone C la data da cerchiare in rosso sul calendario è quella delle 23 dicembre prossimo ore 19 pala San Giacomo e diretta su Palamano TV per lo scontro diretto che potrebbe risultare decisivo per l'assegnazione del primato e sì perché gli uomini di Ancona e Terafino non sbagliano mai neanche nelle prove più complesse la tredicesima giornata ne è la prova provata Conversano trascinata dai gol di Stabellini e dell'ex Dinko Dedovic vince in rimonta in casa dell'Albatro Siracusa annullando il 18 siciliano di fine primo tempo imponendosi sul 24-20 stessa sinfonia anche se l'orchestra è la Junior Raffasano diretta da Francesco Ancona sempre al comando della graduatoria grazie alla prova di forza contro Fondi un 33-25 nel segno del pivot azzurro Pasquale Maione autore di 11 segnature Noci e Gaeta nel frattempo si dividono il terzo posto Appaiate a 14 punti Pugliesi senza sforzi contro Ragusa 36-20 mentre per i laziali arriva un successo sudato 28-27 a spese del Benevento Sapevamo sarebbe stata una partita dura intensa ovviamente Siracusa è una squadra forte fisica soprattutto in casa loro sicuramente volevamo fare bella figura siamo riusciti a tenere comunque i nervi soprattutto saldi e continuare con fatica comunque a sviluppare il nostro gioco e alla fine siamo stati premiati Jurgen Girone C che vive appunto di questo duello tra Conversano e Fasano sabato c'è una partita tesissima sentitissima alla Palla San Giacomo sono le due squadre più forti sì assolutamente nel Girone C sono quelle due squadre che quest'anno dominano si vede anche che loro praticamente hanno vinto le loro partite e adesso adesso a Conversano sicuramente la sfida sarà quella che alla fine decide anche il primo posto di questo Girone credo che siano anche le due squadre che insomma in qualche modo potranno unitamente alle corazzate del Girone settentrionale poi disputare insomma e competere per il tricolore per la conquista dello Scudetto assolutamente loro due sono sicuramente cioè da considerare anche poi nell'andamento del campionato saranno due squadre che anche loro decideranno poi alla fine giocheranno per lo Scudetto ma anche in Coppa Italia secondo me queste due squadre saranno da più che giocheranno insomma in casa giocheranno in Coppa Italia che si disputerà proprio a Conversano sì si gioca in Puglia quindi secondo me loro due sono le favorite anche per questo Alessandro? Ma sono anch'io d'accordo penso che comunque questo derby sarà più che altro c'è la vittoria di questo derby sarà più che altro una motivazione di orgoglio personale perché comunque Conversano e Fasano Fasano e Conversano raggiungeranno le prime due posizioni nella formula successiva non cambia nulla arrivare primo secondo per cui sicuramente sarà una partita appunto per dimostrare la leadership nel loro girone io ringrazio ringrazio Alessandro Fosina Huguen Prantner li avremo ospiti li ascolteremo ancora nel corso dei prossimi appuntamenti perché Handballmania avrà proprio qui in Trentino una lunga parentesi proprio in considerazione di tanti avvenimenti che avremo e che registreremo nel mese di gennaio ci fermiamo breve spot promozionale poi ci ritroviamo con Gigi Darui della Bressanone e passiamo all'argomento Natale che cosa regaliamo quest'anno idee una bella stilografica personalizzata un calendario con i nostri prodotti ogni mese uno diverso un'argentina di pelle profilata in argento un classico un bel cesto di prodotti tipici scusate ritardo la partita è dura da più del previsto ma come ho fatto a non pensarci questo sì che è un regalo originale quest'anno regaliamo gli internazionali di tennis a Natale non essere scontato regala un'emozione scopri sul sito tutte le soluzioni dedicate alle aziende coppaglia di Gigi Darui Trentino Alto Adice che dicevamo in precedenza sarà il cuore pulsante del movimento italiano nel mese di gennaio ci sarà la partita tra Italia e Israele a Merano poi ci saranno le qualificazioni mondiali qui al Palarese di Bolzano l'Alpe Adria a Bressanone cosa chiedere di più intanto buonasera a tutti a tutta la Palamano nazionale sì quando siamo stati presi in considerazione per questo grande progetto Stefano Podini e tutto il gruppo dell'Alto Adige ci ha entusiasmato e siamo veramente molto molto fieri di riportare la Palamano internazionale in Alto Adige che a detta di tutti a detta di tutti quelli che fanno Palamano in Italia è una delle piazze migliori sia come pubblico sia come struttura una sfida importante no? ed è importante soprattutto l'aver consorziato le forze qui in Alto Adige per poter ottimizzare gli investimenti il prodotto e insomma quello che sarà poi lo sforzo da produrre in questi tre avvenimenti beh diciamo che la Palamano italiana esiste da tantissimi anni abbiamo vissuto tante tanti fasi adesso penso che sia arrivato proprio il punto di unirci tutti quanti insieme non solo dell'Alto Adige ma proprio tutta la Palamano italiana per fare questo benedetto cambio di passo perché non ci meritiamo il 44esimo posto nel ranking internazionale vediamo adesso che cosa succederà ecco prima di entrare nello specifico del challenge che appunto insomma si articolerà in tre diversi momenti a gennaio qui in Alto Adige una considerazione con Darui del Bressanone perché prima abbiamo ascoltato Prantere Fusina si è parlato degli incroci nel girone A si è parlato soprattutto del derby che attende Verano è ovvio Bressanone che ospiterà il derby nel prossimo turno di campionato chiedo domanda spontanea partita decisiva chiave per quanto riguarda il Bressanone per Merano Prantere è già stato insomma a categoria ma secondo me visti i valori in campo tutto il girone nord ogni settimana è un derby è un derby e le partite sono tutte molto molto importanti è chiaro non perdere la concentrazione così come ha detto prima Alessandro ci possono essere gli errori di percorso però bisogna fare i conti veramente con delle squadre fortissime a partire dal Mezzocorona dal Malo Cassano sono tutte squadre molto insidiosi è chiaro che quando si parla di derby Bolzano Bressanone Merano Bressanone si parla di storia della Palamano Nazionale quindi abbiamo un pubblico che dicono tutti è il più numeroso d'Italia abbiamo a Merano c'è questo gruppo di fan che sono molto organizzati sarà un bellissimo spettacolo speriamo che sia una partita corretta così come è stato per esempio il derby a Bolzano e poi che vinca il migliore Bressanone che chiaramente vuole anche riscattare la sconfitta maturata all'andata una breve brevissima parentesi sul movimento femminile che ha celebrato il successo della Francia ai mondiali la Francia che ha battuto se vogliamo anche a sorpresa la Norvegia in finale poi con Gigi Larui anche una insomma considerazione sul movimento femminile Bressanone che con la sua squadra giovane ma molto interessante partecipa al massimo campionato femminile intanto vediamo il servizio All'Ele Ble frase tanto amata dai francesi quando la loro nazionale vince frase diventata consuetudine quando si parla di pallamano perché la Francia vince praticamente sempre ora anche al femminile campionese del mondo per la seconda volta nella loro storia e a spese della Norvegia che il titolo iridato se lo vede scippare dalle mani dopo averlo conquistato nel 2015 tutto a D'Hamburgo davanti a 11.200 spettatori finisce 23-21 Francia sotto solamente per un breve passaggio nel corso del primo tempo fra l'undicesimo e il diciottesimo di tre reti il massimo vantaggio delle scandinave nel secondo tempo l'affondo fino ai minuti conclusivi quando Pinot l'anima del gioco francese mette dentro le reti che tramortiscono la Norvegia di Lacra Berra il colpo finale ben assestato l'ascesa fino al tetto del mondo e servita era successo solo nel 2003 e succede ora in un 2017 che alla Francia regala due ori mondiali in 11 mesi a gennaio con gli uomini adesso al femminile altro dato che rende perfettamente l'idea di ciò che il movimento francese rappresenta oggi a livello globale e potrebbe non essere finita fra un mese c'è l'europeo maschile e allora di nuovo all'Ele Bleu Francia campione del mondo non è una sorpresa campione del mondo maschile campione del mondo femminile hanno decisamente un passo in più i transalpini beh diciamo che la Francia è sempre stato uno dei giochi più spettacolari più matematici di quelli di quelli espressi da tutte le nazionali e chiaramente adesso con queste con queste forze con questi sponsor con questa possibilità di poter lavorare a un certo livello esalta ancora di più quello che è la scuola francese perdonatemi un attimo se io mi ricordo quando si giocava in nazionale nel 74 siamo andati in Francia abbiamo vinto contro la Francia a Grenoble oppure nei giochi del Mediterraneo del 79 abbiamo battuto la Francia anche a Kumamoto poi la Francia vinse di Misuna e quindi diciamo pure che noi forse stiamo perdendo un po' quello che è l'obiettivo noi dobbiamo avere degli obiettivi che sia la palamano italiana che fa degli obiettivi non le singole squadre di club dove si lavora tantissimo e poi si viene a confronto con altre realtà che non lavorano secondo me serve proprio una programmazione gli atleti li abbiamo però è ora che ci sia veramente un discorso manageriale dietro la palamano che deve rendere sempre più giustizia a questo sport a proposito di appuntamenti International Challenge Handball che si terrà proprio in Alto Adige tra i tre appuntamenti già menzionati ovvero Italia Israele qualificazioni e soprattutto Alpe Adia che si discuterà a Bressanone abbiamo parlato con Stefano Podini domani intanto la conferenza stampa di presentazione dell'avvenimento siamo orgogliosi che la federazione ci ha dato questa fiducia per affrontare tre appuntamenti in uno solo praticamente in tre settimane avremo un grande palamano da organizzare da vedere da godere qui in Alto Adige devo fare un plauso veramente a tutte le società che hanno aderito subito alla richiesta della federazione con grande entusiasmo Dario Dalmedico il presidente del Merano è stato nominato presidente del comitato organizzatore e veramente si sta diciamo dedicando molto a questo evento idem ha fatto Bressanone responsabile di Bressanone Gigi Darui che anche lui ci sta mettendo anima in corpo devo dire che veramente l'Alto Adige ha fatto squadra in questa organizzazione e allora in conclusione con Darui ancora rispetto a questo triplo appuntamento dell'International Challenge che si terrà in Alto Adige saranno partite tra Nazionale Italiana e Alpe Adria di alta spettacolarità contenuti tecnici importanti anche un'occasione ne parlavamo prima per la palamano italiana di confrontarsi con le realtà europee allora si partirà a gennaio con la partita a Merano dell'incontro amichevole contro l'Israele poi l'11 il 12 il 13 speriamo che la nazionale ci faccia sognare di nuovo soprattutto alla Romania la Romania nel ranking è il numero 9 noi siamo il numero 44 però noi abbiamo il pubblico e poi abbiamo finalmente questo nuovo incontro internazionale quindi a Bressanone area internazionale di palamano e speriamo di essere al meglio per poter organizzare una serie di incontri che siano di alto spettacolarità grazie 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 Gigi Darui ne approfittiamo a questo punto per formulare gli auguri di un buon Natale a tutti gli amici al Movimento della Palamano italiana alle società a chi si dà da fare quotidianamente per portare avanti uno sport che noi abbiamo sempre definito spettacolare ed elettrizzante lo sport che facciamo è una passione è una malattia quindi vi auguro a tutti buon Natale senza malattie e vi aspetto tutti a gennaio per il challenge in Alto Adige in Alto Adige e allora gli auguri formulati direttamente da tecnici da società da atleti della Palamano italiana li abbiamo raccolti in questa clip per quanto ci riguarda è tutto grazie per la cortese attenzione e buon Natale tanti auguri di buon Natale da me trasporti in greco buon Natale da Tua Lina buon Natale buon Natale da Tavigino buon Natale un gol pazzesco